E' iniziata sotto una densa nebbia l'operazione di cattura dei caprioli per prevenire gli incidenti stradali disposta dalla regione toscana nella zona vicino al casello autostradale della 11 a Pistoia che ha comportato la chiusura dell'autostrada da Monte Catini a Prato Ovest. L'operazione, che si è conclusa in anticipo rispetto al previsto, ha permesso di catturare 16 animali che si erano insediati nei 10 ettari di terreno tra il casello, l'ospedale San Iacopo e la tangenziale. Tutto è andato per il meglio. Non c'è stato nessun problema, abbiamo preso solo caprioli, c'era la porra dei cinghiali non ce ne sono stati, quindi è andato tutto veramente bene. Un po' di difficoltà perché le reti sono state tutte controllate ma ne arrivavano sempre a gruppi, quindi la cura che ci vuole per togliere dalle reti, per poi metterli nelle casse è importante e quindi il personale ha lavorato benissimo. Nell'operazione, coordinata dalla Direzione Agricoltura della Regione, sono stati coinvolti Polizia Provinciale di Pistoia, veterinari della ASLA Toscana Centro, personale dell'ATC, della società Dream e le Forze dell'Ordine. Gli animali sono stati catturati con apposite reti e trasferiti in sicurezza in una zona montana accuratamente scelta. Nella zona del demanio regionale di vieto di caccia denominata Querino Collina, più in particolare nella strada che va da Badia a Taona a Torri e nella strada che dalla Collina Vecchia porta a Pitocchina. La Regione aveva già condotto operazioni di cattura e liberazione di caprioli come quella di Pistoia all'interno dell'autodromo del Mugello. Alla fine tutti con gli occhi puntati sugli animali liberi nel loro habitat.